Ti sei tolto belle soddisfazioni con la vittoria della Pierna Mental, il Patrui a fine stagione, ti è mancata la Coppa del Mondo che è andata al tuo amico Michele Boscaccio, mai vi alternate? Sta veramente una stagione impegnativa ma ricca di soddisfazioni, sicuramente è la mia stagione migliore che ho fatto in questi ultimi dieci anni e che dire, gli atleti forti c'erano quasi più o meno tutti a tutte le gare e quindi sta veramente una bella battaglia. Ho dato il meglio di me soprattutto perché quest'anno sono riuscito ad allenarmi bene a casa con le copiose nevicate che faceva quest'inverno e quindi più entusiasmo anche ad allenarsi con la neve che c'era. Sicuramente un po' di rammarico per la Coppa del Mondo overall però sicuramente grandi soddisfazioni da tutte le altre gare. Scappata veramente per una piccola cosa diciamo. Diciamo che ho preso una piccola penalità per una mia mancanza sul peso dei materiali che mi ha comportato una penalità in tempo e quindi con la questione che non mi facevano più partecipare a una gara di Coppa e quindi da lì praticamente amaticamente ha vinto la Coppa a Boscacci e non abbiamo potuto giocarcela fino alla fine che sarebbe stato veramente bello fare una cosa così. E poi è bello no? Immagino anche giocarvela tra voi, siete amici, siete cresciuti praticamente insieme quindi cosa significa giocarsela sempre con lui? Diciamo che da quando siamo partiti dai nostri albori siamo sempre in giro assieme dal primo anno che siamo in nazionale siamo entrati tutti e due assieme, siamo nati lo stesso anno e io mi sono arruolato un anno prima di lui nell'esercito quindi sempre una vita praticamente assieme siamo via quasi di più io e lui assieme che non con le varie amorose quindi sicuramente è una bella sfida e una rivalità pacifica diciamo. Diciamo che l'anno prossimo dici quest'anno me la riprendo io? Il problema è che il prossimo anno ce ne saranno tanti altri che vorranno vincere come tutti gli anni quindi sarà sempre duro vincere. E effettivamente sarà anche questo Magnini che cresce bene? Magnini cresce bene, speriamo che il prossimo anno cresca ancora per dare battaglia ancora di più nelle prossime gare future e avanti così, l'Italia c'è, i giovani crescono e quindi siamo sulla buona strada. Grazie mille. Grazie a voi.